Ma dobbiamo innanzitutto leggerla nel dettaglio perché più la leggi più in genere scopri le cose anche negative. Sul sud non c'è nulla, sul sud non c'è nemmeno un po' di minestra riscaldata perché la minestra io la rispetto, è una cosa che ha anche un suo valore. Qui abbiamo tra le priorità strategiche la fine della Salerno Reggio Calabria di cui si parla da credo 50 anni quindi non è una priorità e non è una novità. Anche sul tema delle risorse non mi pare di registrare fatti significativi, non è una manovra che registra una svolta nei rapporti tra governo e il Mezzogiorno e tra il governo e la città di Napoli. Su questo non registro passi in avanti così come è stato sinora lotteremo per migliorare le nostre terre con le nostre forze, con la nostra dignità e con la nostra capacità di produrre economia dal basso. Da questi governi liberisti non mi aspetto manovre che vadano nel segno della giustizia sociale e della riduzione delle disuguaglianze.